Riprendono dopo la parentesi estiva le attività delle commissioni consigliari, le prime su welfare, bilancio e mobilità al via già dalla scorsa settimana. Si sono riunite questa mattina anche le commissioni giovani e ambiente presiedute dai consiglieri neoeletti Claudio Cecere e Marco Gaudini. Le due sedute sono state l'occasione per fare il punto sulle attività da mettere in campo nei settori giovani e verde pubblico, discutere quindi sulle iniziative di promozione del territorio a partire dal lavoro svolto finora. La valorizzazione di parchi e giardini, il diserbamento in città e la gestione degli spazi verdi nelle scuole sono le tematiche al centro della commissione ambiente che si è soffermata anche sull'emergenza del sisma in centro Italia e le attività di soccorso offerte dal comune. Viene fuori la necessità di iniziare un'interlocuzione con l'assessore all'ambiente, con tutte le aziende che operano nel campo della gestione, della manutenzione del verde, dei rifiuti, della pulizia e della città, per iniziare a programmare degli interventi, un lungo corso di interventi in sinergia con i territori municipali, con il decentramento quindi all'interno delle municipalità, fermo restando tutti i limiti relativi al personale che purtroppo è anziano e un numero non sufficiente a garantire di servizi ottimali. Proprio per questo dobbiamo iniziare a programmare per avere sopperite a queste mancanze che derivano da una situazione che non può far riferimento a noi, ma fa riferimento a gestioni degli anni e che dobbiamo in qualche maniera cercare di superare attraverso un lavoro congiunto, sinergico, con tutte le forze buone e sane della città. Sul fronte giovani in commissione consigliare si è discusso delle nuove progettualità e della valorizzazione di aree a vocazione rurale. Le problematiche che si stanno creando con la regione Campania vorrebbero affidare i progetti direttamente a privati, ad associazioni, bypassando i vari comuni. Una città come Napoli non può permettersi questo. Siccome la commissione si occupa anche di start-up, mettere a concorso sulle dieci municipalità delle start-up che possano aiutare con innovazione i diversi territori.